Micaela sta producendo le nostre granate, ma ha bisogno di un altro componente, i detonatori. Sì, potremmo trovarne alcuni presso una stazione ferroviaria nelle Badlands. Dobbiamo prenderli prima che arrivino i vermi distruttori. I nostri detonatori dovrebbero essere in queste casse di equipaggiamento. Cercateli finché non li trovate. Ed evitate quelle bombe. Non voglio raccogliere nessuno con il cucchiaio oggi. Sì. Cambiamento di posizione. Che si fa? Rilevata attività nemica. Tenete le locuste lontane dal nostro carico. Sbrigatevi, la zona di pericolo si avvicina. Ci sono. Granata! E resta a terra. Lascia fare a me! Ok. Potrebbe tornare utile. D'accordo. Arrivo. Sono pronto ad andare. Sei praticamente fottuto! Peccato! Sì! Sei quasi morto! Mi hanno colpito! Tutto? In transito. Ok. Ancora niente. Ormai ne mancano poche. Ehi, vermi! Chi rompe, paga! Avrei potuto occuparmene da solo, parcomacchina. Non era necessario che venissi. Non credo proprio, cowboy. Sei ancora in prova. Ma tutto bene. E quanto a lungo durerà questo periodo di prova? Finché non guarisce il bernoccolo che mi hai fatto in testa. Va bene. Sei pronto? Ok. E' in dettaglio di metterci un po' di impegno. Cambiamento di posizione. Occhi aperti! In attesa! Sto ascoltando. Vai così! Va bene! Attenti! Terminazione! Sotetirino! Sterminato! Oh, eccoci qui! Bene. Detonatori presi. Ora chiamo l'estrazione. Ma l'equipaggiamento aggiuntivo ci farebbe comodo. Che succede? Vai avanti. Forte e chiaro. Rilevata attività nemica. Facciamoci volere! Ci sono ordini per me? Ah, ora è nostra. Passiamo! Oh, eccoci qui! Fuoco alle polveri! Passo e chiudo. Sì! Vi do un bersaglio. Ottimo lavoro. Detonatori presi. A tutte le unità. Evacuazione! E adesso? Ce l'ho! Per te è finita! Beccato! Ehi! Chi di voi bastardi è il prossimo? Cecchino in attesa. Mantenete la posizione, gente! Via la sicura. Ecco. Bene. Una piccola missione, niente male. Come va il bernoccolo in testa? E insomma, un anziano come te non può colpire così. Volevo solo sconfussolarti un po', faccio avanti. Se volessi farti del male, lo sapresti. Questi supervermi non sono affatto una buona notizia. Se Ukon riuscesse a produrne qualche migliaio, marcerebbe su Ephiria. Facile da risolvere, Diaz. Puoi fermare quegli stronzi? Fai esplodere la loro fabbrica. Fatto. Non c'è di che. Ciò che ci resta da fare... è scoprire dove si sta nascondendo Ukon. Senti. Quello che ho fatto... Insomma, è stata... una pessima decisione. Volevo vendicarmi... delle stronzate che i COG mi hanno imposto. Vi ho messo tutti in pericolo. Cercavo solo di... Giusto? Attento. Se lo fissi ancora un poco, gli darai fuoco. lascia perdere. Non si muove da due ore. Forse ho capito. Questi sono tutti i luoghi che Ukon ha attaccato. Ma perché questi? Ne abbiamo già parlato. Sceglie a caso. I luoghi sono scelti a caso. Ma è dove non ha colpito. Che è interessante. La provincia di Zenik l'abbiamo controllata. Strutture mediche intatte, ciò di cui ha bisogno. Ma non l'ha attaccata. L'unico posto dove non vuole lasciare alcuna traccia è proprio questo. Zenik è enorme. Ci vorrà tempo per trovarlo. È lì. Lo sento. Meno male che Ukon tiene un basso profilo a Zenik. Ci informano della presenza di un campo di torture segreto. Dobbiamo liberare i prigionieri e trovare la sua base. Bene, andate da quei prigionieri ma tenete gli occhi aperti per eventuali indizi. Daniche, tracce, qualsiasi cosa. Non ti emozionare. I verni hanno campi di tortura ovunque. Non significa che la base di Ukon sia vicino. Chiamalo intuito. Equipaggiamento al sicuro. In transito. Guardie delle locuste avvistate, eliminatele! Fatemi sotto, faccia di merda! Perciò, senz'ero. Viena sicura. Ci siamo. Pozzoli di tortura individuati, muoviamoci! Fuoco alle polveri! Fermo e disintegrato! E resta a terra! Vediamo questo! Vierde! E' ora di lavorare! Imbustato e sotterrato! Arrivo! Un pozzolo più avanti! Apriamolo! E' ora di lavorare! Sto arrivando! Ehi! Fa tutto bene! Ci sono io! Ma siamo ancora in pericolo! Puoi combattere! Io? Sì! Posso combattere! In attesa di ordini! Puoi ripagare il favore? Elimina qualche verme quando ce ne andiamo! Dirigiamoci velocemente all'APC! Abbiamo vermi da friggere! In movimento! Ti ricevo! Ancora uno! Preparatevi agli stronzi! Ai vermi questo non è piaciuto! Ne arrivano altri! Ti avviso che ultimamente stiamo vedendo dei vermi nuovi! Molto più forti! So tutto di nuovo! Va bene? Ti ho detto che so combattere! Ora lasciamelo fare! Ricevuto! A riposo! Sono pronto! Usciamo! Li ho mancati! Marta! Mi resta un colpo! È morto! È morto! Sì, io fissi! Oh la Park! L'impianto ce l'ha con me! Ho la carica! Ecco, questo brucia! Sì, te ferito! Armi il pugno! Avanguardia in attesa! Sono quasi a secco! Vai così! Come se niente fosse! Fuori uso! Sì! Movimento! Ok! Un verme mollo! Bene, tocca a noi! Ci sono! Proprio come pensavo! Lavoro da manuale! Colpo mancato! Vai avanti! Vai avanti! Vai avanti! Capito! Uccidi per prima e muori per ultimo! Sarai solo un ricordo! Bene, ricarico! Sto finendo le munizioni! Un verme morto! Sono quasi a secco! Sono quasi a secco! Sono stupito! Affermativo! Affermativo! Vincino avvicinamento! Vedo! Vedo! Ordini! Sto ricaricando! Sto ricaricando! Demico a terra! Ci siamo! Vedo un bersaglio! Fuoco le polveri! Facciamo un po' di male. Fatemi sotto, facce di merda! Diamo inizio allo spettacolo! In attesa di ordini. Affermativo! Vediamo cos'hanno. È ora di lavorare. In attesa. Quasi a secco. Preparatevi, gente! Via libera! Tocca a noi! Versaglio abbattuto! Capito! Eh già? Occhi aperti! Lancio una granata! Finaccia eliminata! Avanti! Qui siamo al coperto! Fatevi sotto, best! Ehi, apri gli occhi! Bene! I buoni sono tutti qui! Ehi, i vermi che vi hanno preso. Avevano una base qui vicino. È importante. Loro... Loro... Senti, non possiamo andarcene. Ma certo! Abbiamo cibo e letti per entrambi al nostro compagno. Lei sa qualcosa. Ma conosco muori più loquaci. Vuoi che le parli? Posso unirmi anch'io? È il tuo campo. Non voglio neanche pensare a cosa è passato. Risparmia la pietà per qualcun altro. Senti, se vuoi andartene, non ti fermeremo. Ma se non vuoi, allora parla. Che ti è successo? Vivevamo in un vecchio laboratorio. Mio padre è uno scienziato. Insomma, era. Qualche settimana fa ero affare provviste. E quando sono tornata, quella cosa si era già... Già insediata. Ukon. Non so perché non mi abbia uccisa. Ma cosa avrà fatto a mio padre? Questo è un segreto che conserverò fino alla morte. Mi dispiace. Guadagnati la mia informazione. Dovrai aiutarmi a uccidere Ukon. Ti aiuterò a ucciderlo. Come ti chiami? Il mio nome è... Devi aiutarmi a uccidere Ukon. Credo di poterti aiutare. Hai un nome bello lungo. Non c'è nessun altro modo in cui ti possa chiamare. Reina. Penso che tu le piaccia. Sa dove si trova. Ed è ora di farla finita. Reina ci ha detto dov'è il laboratorio di Ukon. Ma un assalto frontale non andrà bene. Per pianificare un attacco dobbiamo determinare prima le sue difese. Eliminate i vermi e dirigetevi al punto d'osservazione. Oltre questo muro c'è la base di Ukon. Un tempo non c'erano uomini o vermi appostati al punto di controllo. Ma Ukon è uno sveglio. Non riusciremo ad intrufolarci. Dobbiamo aprire il cancello e farci strada fino al punto d'osservazione. Andiamo. Sto ascoltando. Ricevuto. L'arme avvistato. A tutte le unità. Fuoco. Piacerebbe riaverlo indietro. Ricorsa. Il pannello della porta sarà facile da violare. Ma prima eliminiamo i vermi. qui abbiamo finito. Preparatevi. Abbiamo compagnia. Sta bene. Reina è a terra. Bene, tocca a noi. Sì. Andiamo. State a passo. Dico sul serio. Rianimatemi. Sto aspettando. A rapporto. Buonanotte, idiota. Avanti, stronzo. Mi sono mancati. affermativo. Affermativo. E allora forza. Non fatemi perdere tempo. Mancato. Vierde. Levatemi questo obiettivo di dosso. Bene. Tocca a noi. In arrivo. A terra. E seponto. Siete stati addestrati proprio per questo. proprio qui. Sono pronto. Sono pronto. Sono pronto. Oh, cavolo. Servono munizioni qui. Troppo facile. Stai facendo un massacro. Forte e chiaro. Ultimo proiettile. Bum. Bella, baby. Sto aspettando. Stai fermo, danno azione! Merda, sono a secco! Adesso siamo pari Sto ascoltando Resta un bersaglio Bene, sono a terra Spari bene per essere un civile Dove hai imparato? Non è difficile Mira e premi il grilletto Devo aver sprecato molto tempo al poligono allora Ok, apriamo quel cancello Siamo passati Dirigetevi al punto d'osservazione Attenti ai vermi Di corsa Sono pronto Ti ricevo Sono pronta Poco non deve scoprire che siamo qui Sterminate le locuste E lasciate l'ultimo per me Non preoccuparti Ci sono abbastanza fermi per tutti Forse per te Sto arrivando Sto arrivando Pronta Pronta Pronto Procedere a piedi Ci siamo Ci siamo Indovina chi Figlio di puttana Questo non lo fermi Provaci ancora Ragazzi È ora Passo e chiudo Eccoti un aiutino Uno è andato Lascia fare a me Lascia fare a me Cecchino presente Vai così Li ho mancati Ultimo proiettile Sto aspettando Che bella sensazione Mi resta solo un colpo Sono sorpresa Oggi mi sento alla grande Storia Rilevata attività nemica Ecco Elicente A direttocela con me Ora tocca a noi Ho avuto abbastanza D'accordo Bravo Ricarico Lascia fare a me Ottimo ucciso Finalmente mi diverto Ordini Tempo scaduto Stronzo Mi sto appena scaldando Pronto e in attesa Ok Bene Ricarico Esatto Mantenete la posizione Gente Altre due Non lasciateli scappare Ottima uccisione Ora tocca a noi In attesa Un posto d'osservazione vicino Liberate la zona Sì Si può fare Ho le merci Quasi a secco Che succede? Feccia di una locusta Vediamo cos'hanno Obiettivo in vista E adesso? Sto ascoltando Ci penso io Attenti Stanno arrivando Ora di andare Che si fa? Stanno sparando Lascia fare a me Bene Vediamo con che cosa Abbiamo a che fare È lì Tra le rocce Stiamo ristrutturando Stiamo ristrutturando Una fabbrica di stronzi In piena attività Una marea di emulsion Ok Cosa volete per prima? La brutta notizia O quella ancora più brutta? Gabe ha un piano Per il rompere Nella base di Yukon Ma è... Beh Non annullate la vostra assicurazione Sulla vita Se sopravvivremo Dovremmo corazzare Il nostro APC Pesantemente Ti servono piastre di metallo? Saccheggia un deposito di veicoli corazzati Sistematevi vicino alle casse E prendete quell'acciaio Racimolo provviste da tutta la vita Non mi serve un tutorial Ehi Siamo amici ora Ricordi? Io... Sì Scusa Ok Ho trovato qualcosa Bene Preparatevi a fare il pieno Che succede? Occhi aperti Attività di locuste Ovviamente ci sono dei vermi qui Locuste Colpitele come si deve Ehi Quindi che ne pensi Della grande idea di Gabe? Funzionerà? Oh I suoi piani funzionano sempre Ma non come pensa lui In movimento In attesa Sì Occhi aperti Occhi aperti Svegliatevi Svegliatevi gente Arrivano da ogni parte Vediamo cosa ne pensano di questo Capito? Vedetta attivata Vedetta attivata Ehi Mi servono munizioni Mi sto appena scaldando Sì Sì Lancio una granata Nemico abbattuto Nemico abbattuto Non li lascerò passare Ci sono Pesco scaldando Arrivano 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 Stacco Nelle ferite No Sarà per un'altra volta Mi ha piccato il ticker Quei ticker Non sono qui Per farsi coccolare Scacciateli Prima che esplodano Non riesco a fare il mio lavoro Con i vermi in faccia Movimento Movimento Non riesco a fare il mio lavoro Preso Ho la situazione sotto controllo E restate fuori Ciao ciao Piazzo qui la vedetta Supporto pronto E adesso? Non batterò Ciglio Temico abbattuto Merda Devo concentrarmi Presa Servono munizioni Ti piace Eh? Yeah Non è il mirino Uno in meno Ci hai provato Perdente Perdente Siamo a metà strada Ragazzi Continuate a caricare L'acciaio Ho rimediato Dell'equipaggiamento Sono pronto Ad andare Servono altre munizioni Ordini D'accordo D'accordo Quasi a secco Brutto colpo Brutto colpo Ricevuto Brutto colpo Brutto colpo Brutto colpo Brutto colpo Brutto colpo Brutto colpo Merda Meno male che siamo nella stessa squadra Sì Mi servono munizioni Sì Sì Siamo a posto Siamo in marcia Abbiamo quasi tutte le piastre che ci servono Resistete È ora della resa dei conti Granata Granata Bello Devo ricaricare Sono pronto ad andare E vai Pronto e in attesa Andate Forte e chiaro Granata Preparatevi Abbiamo compagnia Perfetto Eliminato Andiamo Uno è sistemato D'accordo Arrivo tra un secondo Morte senza dignità Ne ho preso uno Sono pronto ad andare Sei praticamente fatto È tutto per ora Dunque Reina Ha combattuto molti vermi prima? Non così tanti in effetti Ma in un certo senso È come se li combattessi Da tutta la vita Ma non mi dire No, intendo Lascia stare Bene, abbiamo fatto Bene Ottimo lavoro, gente Ragazzi, ascoltate Reina Sarà lei a dare gli ordini tra noi Adesso torniamo indietro Il carburante scarseggerà Ma il nostro APC diventerà una bestia corazzata Baby Hit it Sous-titel Sous-titel 1, 2, 3, 2, 3